dal Vangelo secondo Giovanni in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli come il Padre ha amato me anche io ho amato voi rimanete nel mio amore se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi nessuno ha un amore più grande di questo dare la sua vita per i propri amici voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi non voi avete scelto me ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri siamo all'interno dei discorsi dell'ultima cena i grandi e lunghi discorsi che il Vangelo di Giovanni ci riporta collocandoli nel contesto solenne dell'ultima cena sono come le ultime parole di Gesù il suo testamento spirituale e qui Gesù dice delle cose meravigliose la prima parola che ricorre quasi un ritornello martellante comandamenti comandamento ecco comandamento che cosa vuol dire nella Bibbia non vuol dire solo un comando vuol dire una strada di vita vuol dire un insegnamento da mettere in pratica sarete miei amici se farete ciò che io vi comando le parole di Gesù non sono solo da ascoltare da studiare da meditare da pregare da contemplare le parole di Gesù sono da fare da mettere in pratica da eseguire perché solo così troveremo la strada della gioia vi ho detto queste cose perché la mia gioia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena eseguire mettere in pratica il comando di Gesù porta a una gioia dirà in altra parte del Vangelo che nel mondo non può dare è la mia gioia la mia gioia dice Gesù sia in voi è una gioia speciale che solo lui è capace di dare al cuore e questo comandamento ecco questo forse la seconda cosa che è bello sottolineare il suo comandamento è l'amore amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi in un certo senso è un po il superamento del ama Dio con tutto il cuore ama il prossimo come te stesso certo è sempre l'amore il cuore ma come io ho amato voi ora è lui la misura dell'amore a cui siamo chiamati questo amore che non è evidentemente solo e neanche fondamentalmente un sentimento non è la passione amorosa non è qualcosa di romantico è una scelta è un modo di porsi davanti agli altri all'altro davanti al mondo davanti alle persone è una decisione la decisione di dare la vita nessuno ha un amore più grande di questo dare la vita per i propri amici e Gesù dice voi siete i miei amici perché io vi ho aperto il cuore del padre lo schiavo non sa quello che vuole il suo padrone mentre all'amico si apre il cuore io vi ho chiamato amici perché ciò che ho udito dal padre l'ho fatto conoscere a voi Gesù ci ha rivelato il cuore del padre per metterci proprio nella relazione di amicizia con dio lo dice anche il concilio vaticano secondo nella parola dio parla agli uomini come ad amici gli apre il suo cuore e l'ultima cosa che mi piace sottolineare non siete voi che avete scelto me ma io ho scelto voi siamo stati scelti siamo stati guardati siamo stati chiamati si resta nella chiesa proprio e si entra nella chiesa nella comunità perché a un certo punto si scopre che Gesù ti ha chiamato e per questo ci si restano nonostante i problemi nonostante le fatiche nonostante tutti i peccati della chiesa stessa di noi perché sei stato chiamato per portare frutto e il frutto è l'amore il frutto è la costruzione di relazioni che mostrino il volto di dio un volto che parla agli uomini che sta con gli uomini come i suoi amici